La partecipazione degli studenti di scuola superiore a manifestazioni come questo tipo è essenziale. Incontrare i docenti dell'università e a capire quanto il mondo dell'università sia vario e quanto possa soddisfare le loro esigenze interiori di crescita è essenziale dall'inizio, quindi da quando sono ancora a scuola e devono scegliere cosa fare. Accogliamo i nostri giovani e gli spieghiamo in semplici parole qual è la strada giusta da intraprendere per realizzare il proprio sogno. Affiancare lo studente anche in una fase in itinere, offrendo servizi quali borse di studio, attività di part time e soprattutto la possibilità di svolgere dei tirocini in struttura esterna.